abbiamo iniziato per samantha ciao elena ho tutto come sempre a 5 154 2 e 1 allora è una bambina con i capelli lunghi la vedo che cammina cammina corre spaventata nel bosco si dà l'autorizzazione e è un'immagine questa o è una vita precedente non so se un'immagine o un sogno che ne ha fatto qualcosa così di questa vita però c'è quasi come se fosse successo realmente vabbè vediamo questo sogno in questa immagine andiamo avanti per qualche secondo allora mi fa vedere questo quest'episodio che non so mi fa vedere che mentre lei corre si guarda dietro dietro ci sono tre che lei vede come mostri sono attuali differenze sì sì allora lì erano tre e adesso ce n'è una però è la stessa come se si alternassero no sono molto simili quindi la erano tre qua adesso è una no mi fa c'è quello che vede nel terco e che si alternano ma lo scopo è sempre lo stesso come si fa bene vediamo le interferenze terre che subito c'è questa specie di tra volatilio un drago più o meno come forma poi c'è una mantide leonide e poi ci sono due due militari però sono tipo appena dietro nel senso non la interferiscono ma sono in attesa di avere il momento giusto per interferirla finora non l'hanno mai interferita no sono legati alla situazione di adesso e al suo lavoro come se pensassero che prima o poi lei in qualche maniera ci casca diciamo nel meccanismo no passa le vibrazioni appunto che in qualche maniera è agganciabile con le interferenze adesso che possono essere che sono legate e dei soldati questi due militari ai siriani e rettiliani riguardano tutta la gestione delle persone il controllo delle persone in questo momento che come se fossero lì in attesa di un suo cedimento appunto si abbassano le vibrazioni e che la possono agganciare o con un tempo politano con cini vacca ma va bene menta mentali allora c'è una di livello 3 se uno di livello 3 che è collegata alla mantide con che compito che compito alla 3 è legata a sua figlia e quella è legata a sua figlia c'è allora appunto le diceva che quando è contenta e serena no è come se vedesse sua figlia che fa di tutto per far sì che lei diventi triste no quindi che si abbassano se abbassino le vibrazioni allora soffino lo fa sempre anche quando lei non è allegra quando lei non è entusiasta ok ma l'identità mentale di livello 3 insieme alla mantide fa sì che quando lei allegra lo faccia sempre sua figlia c'è cioè samantha lo lo rimarca lo nota di più lo nota esatto cioè magari non la figlia lo fa di suono con lei sempre nel senso di continuo però magari passano dei giorni dove non lo fa o dei momenti dove non lo fa ma quando lei allegra ed è serena e ha le vibrazioni alte l'entità mentale di livello 3 insieme alla mantide fa sì che lei lo noti cioè lei noti che sua figlia lo fa quindi aggancia questa cosa aggancia suo figlio fatta male tra virgolette e le si abbassano le vibrazioni e non lo fanno per far sì che le sue vibrazioni non si alzino perché poi c'è un'entità mentale di livello 5 che è deputata a mantenere le sue vibrazioni basse attraverso l'umore quindi vedo che è proprio adibita a tenerle le vibrazioni non più alte di un tot quindi vedo proprio che in eterico è come se adesso è sempre uguali tipo monotono chi è questo scusami di tramentare di livello 5 e quando lei riesce ad alzare le vibrazioni interviene nel tramentare di livello 3 con la mantide sì Elena ok si è andata via per me è andata via a me credo non a samantha se è andata via tipo 15 secondi quindi dicevi l'entità mentale numero 5 ok che poi cosa è detto così ho detto niente che metà di livello 5 la vera tiene sempre monotono ok e l'entità e quando le sue vive quando lei riesce ad alzare le vibrazioni ok interviene l'entità mentale di livello 3 insieme alla mantide per abbassarliere proprio ho capito altre entità mentali ce n'è una di livello 2 che più o meno fa sempre la solita cosa di confondere un po le carte dire di far pensare alla persona che non è adeguata che non è l'altezza però ce la vedo un po che la confonda un po che le confonde le carte ecco principalmente quello ok impianti mettiamo se ci sono dei mentali sì tipo un cerchio grosso della testa ed è utilizzato dall'entità mentale di livello 5 per mantenere vibrazioni sempre lo stesso livello poi poi allora c'è ne uno più o meno a livello del plesso solare poi ce n'è uno dove dietro la cresta iliaca e penso sia quello quello che ho visto prima che gliel'hanno messo durante l'appendicettomia e poi ne ha uno tra le due ovaie appoggiato all'estero dell'utero tra le due ovaie e questo è collegato a due sulle ginocchia ok ed è quello responsabile per le gambe senza riposo quel fastidio che lei ha la sera comprese lo vaia di sarà la sera dell'ovai e poi tu e sotto le piante dei piedi anche questi collegati a quelli delle ginocchia quello tra le vaie ok basta se nome progetto vibrazione alterata nome anima clodi vibrazione 893 milioni consapevolezza percentuale in percentuale 136 psp 32 68 vite precedenti 2315 cervello 9.4 ok primo cinema invitiamo tutta la gente che lei ha chiesto due figlie la madre il latore compagno l'ex marito le sorelle e cugini dimmi solo se si presentano tutti più interessati il i più interessati allora le due figlie il compagno e l'ex marito tutti prima fila anche l'ex marito ok chiamiamo invece disincarnati stanno andando velocissimi oggi ma va bene così il padre tutti i parenti di samantha di tutte le generazioni apriamo portale aureo iniziamo ad aprire portale aureo per tutti i parenti di tutte le generazioni e il famoso medico che sin dagli albori della puttanata ha iniziato a non vederci chiaro e che appunto un giorno è stato trovato senza vita sul suo divano ho detto puttanata e scusate beh dato non mica colpa mia non si può dire quella parola se noti censurano e lo diciamo puttanata abbiamo detto l'archetipo della cosa che è puttanata esatto e non dire puttanata elena basta dire l'algoritmo dice puttanata anche lui chiamiamo ritorniamo seri chiamiamo il medico e il padre si presentano si come allora il padre si presenta è come se si presentasse come se fosse il secondo piano nel senso si è presentato davanti ma proprio lui come è come se fosse il secondo piano quindi si è come se si si vedesse solo la come se vedessi un fantasma e trasparente questo il padre padre sì perché mic 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 robito sì perché siamo lì con le sue interferenze informazione in formazione consapevolezza per ok prima lo vedevo appesantito con un bastone adesso e molto più alleggerito e senza il bastone così come se fosse ringiovanito nell'aspetto cosa fa come lo vedi adesso lo vedo se vedo più risoluto prima era proprio il sicuro quindi sta nel secondo piano quasi per non dar fastidio adesso invece molto risoluto e si è reso conto di come funziona tutto con la vic si è reso conto che ha voluto vivere diciamo ritiene che la vita che ha vissuto la un po sprecata perché ha voluto fare l'esperienza di una vita senza senza aver consapevolizzato niente di che se non adesso con appunto questa opportunità che le abbiamo dato noi c'è una vita molto piatta e normale non ha ritiene di non aver fatto nessuna esperienza che l'abbia aiutato nella sua evoluzione ecco esperienza spirituale sì che non ne ha fatto in questa che vuole è stato chiamato da sua figlia da questo proposito quello che dice che aveva una certa affinità e voler beh ti dico l'immagine che mi viene immagine lui che l'abbraccia e la mentre l'abbraccia è come se io vedessi la compatibilità delle loro piedi che come se fosse un'anima affine ti direi e quindi lui è contento di averla rivista perché ha un bel ricordo si ricorda questa affinità che aveva con la figlia ecco ricordiamo anime affini giumelle anime affini nel caso di padre e figlia mia fine più bello da dire hanno un'analogia in termini di parte eterica di spirito che senso in che termini nel senso che sono molto compatibili sono anno in questa vita le caratteristiche molto simili hanno gli stessi parametri hanno stesso meccanismo mentale potrei dire potrei aggiungere vedono caratteristiche molto simili e quindi riescono a vivere in complicità ecco a spostarsi all'unisono parallelamente non so senza andare in scontro senza andare in conflitto ecco a grandi linee ovviamente 9 a dell'interferenza il padre adesso con la vick sono andate via così a grande linea che linee che così erano era erano tipo potrei dire dei grigi penso perché erano più o meno tipo umanoidi che lo tenevano giù due dietro che lo tenevano giù da dietro lo appesativano da dietro ecco i parenti sono andati se quanti erano 63 solo se chiamiamo anche tutti quelli che sono nel mondo morti per cinivac dall'ultima volta due giorni fa oggi in modo che le entità che hanno voluto tutto questo l'abbiamo scoperto essere del secondo universo se la piano in saccoccia per non dire qualcosa di peggio sono 13 mila 281 questo numero diventerà spaventosamente più alto nei prossimi mesi se io penso a vedere così se cioè termini di centinaia di migliaia o milioni per giorno centinaia di migliaia quando secondo me massimo sei mesi sarà un evento vengono accese delle antenne vengono o semplicemente passano quel tot di mesi affinché robottini vari nel sangue facciano il loro lavoro allora c'è c'è una parte che verrà attivata ma di loro dopo tot mesi iniziano ad ammalarsi quindi inizieranno ad ammalarsi abbastanza insieme perché sono stati cini baccati no dopo un po di mesi iniziano ad ammalarsi e ci sarà già una bella percettuale così e poi attiveranno il bottone però vedi bottone non sono sicura che riusciranno attivarlo quindi io direi che sono proprio per l'effetto del cd back da solo io voto perché stavano volte no se si lo fanno in tempo non ci vuole molto basta attivarlo no ma non hanno ancora attivato tutto il meccanismo a non sono stati bloccati esatto sono stati bloccati si sono stati veloci durante la pande minchia ma non sono stati non hanno finito no esatto non dire pande minchia mi raccomando va bene allora via tutti anche questi qua salutiamo il padre non chiudiamo il portale e vediamo come vedi il medico allora iniziava trovato già un particolare molto importante già quando è morto senza volerlo è incappato in qualcuno che non voleva questa cosa una persona fondamentale nel portare avanti tutta questa farsa era fermato prima come fanno di solito io vedo come ultimamente fanno iniettano anche nel suo caso vedo che hanno iniettato una cosa nel cuore nel fisico nell'eterico ma vedo anche nel fisico quindi sono andate a casa sua di in donne lui aperto l'ho visto come se li avessero fatto prima qua c'è allora nel fisico e come se sono riusciti a somministrarglielo prima che andasse a casa in qualche maniera quindi poi tipo che devono passare il tuo cuore e non vedo che sono entrati in casa non hanno fatto prima poi dopo un po di ore ha fatto l'effetto ok cosa può succedere una persona se mandiamo questa persona una d'eternum ad altissima vibrazione una vibrazione molto molto alta però una persona sana con buoni principi buoni propositi allora che ha per un momento come se avesse un momento di sbarrellamento cioè come se non ci fosse che non fosse presente non mandassero a te cosa succederebbe che hai un colpo di energia dice ok oa poi poi sei contenta sì 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 l'energia parte in quel momento lì sì poi dopo si riequilibria dopo posso dirti che rimane la carica più alta per un tot per un tot ore che può essere un giorno e se invece lo riceve un figlio di puttana non dire parolacce per esempio un assassino che succede sta male sta male fisicamente perché perché va in contrasto con le interferenze pesanti che gli hanno fatto fare quella cosa e vedo che sta male fisicamente proprio sei gli effetti è come se io lo paragonerei all'apice di una crisi di astinenza proprio da tipo da droghe pesanti stanno malissimo non vedono delle robe stanno male proprio ok così intenso per ma proprio malissimo c'è vedo che proprio come se si bruciassero da dentro ecco quanti sono questi assassini chiamiamoli uno chiamalo ad eterno non significa per sempre ci sono anche io nella scena e ho una determinati questi quali chi ti parlavo in mano lo faccio saltare sulla mia mano destra come una palla lo guardo quindi a in amore incondizionato adesso glielo regaliamo questa bella palla gli si appiccica addosso per sempre siamo qui per imparare e tutto si muove intorno all'alta frequenza se lui si muove su alte altre frequenze e da una bontà d'animo e di spirito non può che giovarne se no cazzo i suoi non è vendetta è equilibrio nel mandiamo uno a tutti i sicari della puttanata adesso opla perché questo non è sicuramente un caso isolato ognuno di questi sicari assassini si ritrova adesso con questo ad eterno tra le balle effetti sono proprio tutti male se un po l'effetto che ha avuto dragos no sono arrivati a tutti a destinazione ok adesso tutti quelli di tutto il mondo io adesso schiacciamo che noi il porto il bottone ci sia adesso lo vediamo schiacciamo il bottone lo aumentiamo questa frequenza di cento volte e lasciamo la cosa come stanno il medico vuole lasciare un messaggio ci chiedeva all'inizio samantha a lei e alla madre allora facendo un po di cose allora prima gli dice allora prima gli dice di continuare così con la mamma come come cura non lo so una cura che forse deve consigliato lui non so poi dice di non mollare e di portare avanti loro il verbo lei il verbo non so di cosa non so adesso annuisce si lei sa e poi la ringrazia tanto tanto di averle dato questa opportunità perché era incastrato in questa cosa in questa cosa e molto aspettava l'occasione per far vedere cosa era successo questo si era lì pronto e aspettava l'occasione quindi la ringrazia per avergli dato l'opportunità ok samantha dice che forse ci si riferisce alla farsa può essere va bene lo salutiamo adesso per lui ci sono dei bei momenti da passare attraverso attraversando il portale aureo dall'altra parte può dare un'accelerata molto forte alla propria evoluzione e vedrà anche cose molto interessanti anche dopo il lavoro che abbiamo fatto di recente sul all'interno del portale oppure dove la frequenza anche aumentata dove anche lì diciamo la consapevolezza è diversa ora quante cose che abbiamo fatto andato se si va bene torniamo su samantha un po di cause esoteriche allora la gamba senza riposo e lo vai e l'abbiamo visto c'è colon è l'impianto che ha un impianto dove ha fatto l'appendice a città mia al colon ha messo con che fine in piena vita come se valutassero l'energia del funzionamento dell'intestino e come varia c'è si valutano la vibrazione dell'energia dell'intestino funzionamento del testino e poi la variazione se mandano degli impulsi loro reni allora lì ho visto prima mentre lei raccontava che ha provato a fare delle abduction sia quando ha avuto coliche renali che quando ha avuto le coliche di ari la ps è riuscita a reagire quindi non sono riusciti a impiantare a mettere gli impianti ha espulso queste hanno provato a mettere queste specie di palline delle sfere di metallo sia una volta che l'altra la psd a inglobate e espulse cistifelle a da vedo questa cosa qua vedo queste coliche biliari poi magari è rimasto un po chiamata dopo ma principalmente vedo che quella cosa l'entità mentale numero 3 è la figlia il discorso figlia e quindi basta al contrario essere contraddetta esatto abbassare l'interferenza nonostante la figlia sappia tutto del cinema che la figlia vuole anche lei essere come i suoi compagni non le importa che le iniettino i robottini e vabbè cane ok il cane giovane il cane però ha distrutto la casa e ha creato in tutti i membri della famiglia grande malessere disturbo fastidio bassa frequenza chiamiamolo il cane interferito se a un edl che collabora vedo con una specie di una via di mezzo tra un canide e un rinoceronte non lo con due corna è legato legato al terreno della casa e collabora con le dl del cane che il cane aveva già ok andiamo un cane una d'eterno un bello potente così che le dl venga scalzato idem l'entità quando lei descritta samantha rideva perché fosse anche una somiglianza questa entità con il cane ma comportamento del cane sono praticamente essere una furia per aver mangiato tutto tutto assomiglia molto semplicemente a tasa è presente sì cosa sono quegli animali della tasmania come si chiamano il diavolo della tasmania ecco simile ecco ok che succede avergliel è andato l'abbiamo proprio ridotto al niente e non c'è più cane lo vedo morto c'è nel senso è stanco morto dopo che gli abbiamo era talmeno lo attivavano talmente tanto che adesso è come se avesse bisogno di riposare e poi l'entità sta friggendo sta ancora friggendo ok va bene chiamiamo adesso il compagno col quale il rapporto è problematico bloccato conflittuale non arriva mai a una conclusione domanda così diretta solita fiamma anima fine o no anima fine no no fiamma anima fine sì e ha interferito lui da due uomini del tempo perché perché se lui se loro riescono a vivere una relazione ancora più bella più intensa più costruttiva insieme tutte e due volverebbero molto velocemente e e questo gli uomini del tempo che lo interferiscono non lo vogliono ti direi anche che da parte sua non è come la parte di samantha come se non ci fosse bisogno di nessun uomo del tempo perché si affidano alla situazione della madre a ok di salute precaria ok esiste la fiamma io vado a mettere sempre il ditino francia confine con la svizzera ma c'è stato un intento di incontro quando sono scesi o questo non è diciamo il loro giro avete una possibilità di incrocio ma non allora non ha come se non avessero programmato di conoscersi proprio ok quindi con la fiamma bene il compagno del cinema si piglia la vic sì se non si era già presa e anche la cdf che fosse più efficace in questo caso un coraggio decisione forza da una probabilmente quando viene assunta una specie di botta no di elettromico elettroshock a rega a svegliatele vabbè tutto però cioè non è che noi diciamo sappiamo facciamo siamo arrivati però ha messo ma che ci sono addormentamento in giro in media siete qua vivete come se fosse il vostro ultimo giorno che fa fondo datevi una mossa vivete la vostra vita da leoni magari tutta la vita da leoni non un giorno da leone era una vita da pecora no come dicevi vivetevi una vita da leoni se dai fammi vedere che cosa succede quando si se la prende ovviamente e la prende ok allora vedo più se è proprio come hai detto tu no da una botta già prima mentre tu dicevi da una botta e vedevo che lui la mangiava era come se si fosse messo quello zaino dietro che ti fa che fai razzi e poi volare vado a prenderli questi due uomini del tempo sono solo due programmi può prenderli abbracciarli e alzare la sua vibrazione fino a che non scompaiono qualcuno dirà li ha bruciati che brutto e cattivo parte che sono programmi quindi voglio dire ma alzando la sua frequenza il compagno si mette come dire in una lunghezza d'onda radio diversa esatto quelli la stanno solo su lunghezze radio più basse quindi è come dire sono due dimensioni diverse sono sempre tutti e due tutte tre ma due stanno in un livello sotto e il compagno finalmente si è dato anche una mossa alzato la sua frequenza e sta a due tre quattro cinque sei livelli più in alto quelli sotto sono lì che lo guardano e schiattano perché non riescono a salire che poi è anche umiliante per questa entità perché la loro condizione specifica quella di vibrare basso non possono prescindere da questo loro di vibrare basso ti devono portare al loro livello con eventi no bari tristezza felice a chiamati vicenza così tu vivi ribasso e torni al loro livello se no tutte le entità e queste non sono sui uomini certo quindi anche questi uomini del tempo a cui abbiamo dato anche tante importanze in passato sono dei poveracci con dei poveracci le entità sono delle poverette sono solo dei programmi non c'è neanche di da bisogno di provare della pena come fanno alcuni miei colleghi poverino rettiliano ma poverino perché è un programma siamo già entrati nelle entità sono vuote sono cip dentro che se che la rappresentazione ovviamente perché tutta energia finta di fatto olografica in questo caso se l'ha fatto il compagno siamo liberi da gli uomini del tempo ok soprattutto che è stato sono sono e allora c'erano ruoli del tempo poi man mano che alzava le vibrazioni diventavano pixel e pian piano sparivano proprio questi sono di soldi sono andati nel loro piano essi che c'è non hanno più niente a che fare con lui poi li vedo in basso come se fosse uno scantinato amore incondizionato ai non intelligenza artificiale amore incondizionato questa è la nostra e light motif della della sessione con amore incondizionato il fidanzato di samantha li ha abbracciati e quelli se ne sono andati fuori dalle balle va bene veniamo a una curiosità l'alunno rom con gli occhi da rettile non la spieghiamo c'è un alunno rom un bambino rom chi ha gli occhi da rettile la pupilla verticale e si comporta come un pazzo bar animale bar rettile si butta per terra fai versi ovviamente non ascolta la lezione scalcia picchiai compagni urla strabuzza gli occhi per un periodo è così chi era avuta a che fare con samantha allora posso di posso dire che era stato questo bambino è stato posseduto non so come dire posseduto sì c'era proprio rettile incarnato nel bambino però era insieme allora si comportava così perché la ps del bambino scontrava con questo rettile lo vedo come una prova un esperimento che hanno fatto provare a sostituirsi alla ps in umano ma magari puoi farlo in un adulto c'è quello che non riescono a fare no quindi a prendere l'energia diciamo che in quel caso lì è come se la loro idea era se io entro posso prendere l'energia che hanno gli umani no in realtà no perché il corpo vive con la ps e la ps deve rimanere lì e loro non possono giucciarla e vivere nel corpo ok quindi o la ps stati e li fa vivere nel corpo e stare in un angolo o sennò vanno in conflitto come in questo caso che c'era la ps che si scontrava con rettiliano nel corpo proprio ok a che fare col fatto che è un sinti è stato più semplice in quel caso lì è stato più semplice perché le vibrazioni l'hanno permesso più semplicemente fammi gesto con le mani per favore samantha o scrivilo quanti anni può avere adesso 20 28 da facendo i calcoli 24 24 25 come come lo vedi e vivo allora l'hanno hanno trattato come se avesse una malattia mentale e da pochi anni dopo io penso paio d'anni dopo ha iniziato a essere sottoposti psicofarmaci e quindi lo vedo che vive in questo se fossero zombie è presente le persone che prendono psicofarmaci per anni e anni e anni parloci pesanti ecco quindi lo vedo zombie ma dove libero in un campo sì sì in un campo non li boh potrebbe essere suddita forse sicilia ha sposato no 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 non è capace c'è proprio no no vive coi genitori io vogliamo una vic la vuole sì 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 è indifferente la cosa sì c'è proprio lo psicofarmaco che ha una barriera sì va bene perché possiamo fare tutto il nostro amore incondizionato ai qualcosa ma non può tutto va bene samantha con una nuova maglietta ai amore incondizionato cosa vuole fare ci sono tante cose che si possono fare in questa sessione la più importante andare nel cluster ci va che si ci porta ci apre la porta sono tanti ogni vita un bicchierino di carta di plastica secoli bianchi più o meno pieno a seconda del tipo di contratto della quantità di contratti di quella vita apre il portale dei cinti prende tutti i bicchieri di butta dentro diciamo che non è fa tutto da sola ma come se avesse bisogno della mia conferma nel senso che tutte le altre faccio cosa esatto c'è ti guarda esatto perché non è convinta possiamo anche non farlo ma convinta come se fosse è come posso dire come se sente quasi incredula di poterlo fare da sola ecco un attimo abituarsi alla alla nuova condizione dove per lei tutto è possibile prima lo sapeva solo con la mente e adesso lo sto provando veramente è come se si deve ancora abituare a questa grande libertà ok messo tutto con grande libertà adesso si crea una d'eterno il suo primo non sa farlo ti chiede aiuto ho fatto bene lo mette qui nel cluster a guardiano di un posto suo ho fatto avatar come lo vedi fa un po lo sbruffone guarda in giro via con tanto amore incondizionato lo mettiamo in un portale definitivo lo fa lei anzi ok chiuso alla d'eterno fatto se bene le tre entità mentali i reti dell'amanti del felinoide i militari pronti ad agire eventuali dl il progetto di vibrazione alterata eventuali abduction qualsiasi tipo di interferenza esiste ancora no 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 chiediamo a samantha di crassi 5 ad eterno anzi 61 lo mette in casa uno lo mette nel suo corpo fisico uno nel corpo mentale un corpo emozionale terco e subliminale fare quando vuole ripeterlo parlo tutti i giorni farlo una volta ogni tanto non farlo mai più tutto dipende da lei se ci fossimo dimenticati di fare questo passaggio lei lo poteva fare lo stesso la d'eterno non ha un costo né in termini economici né in termini energetici l'energia è ovunque né non la sottrae né a se stessa né all'ambiente stringi 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 il risultato è che lei è il creatore oggi ci raccontavano che la nostra amica cliente ci raccontava il finale della divina commedia che effettivamente io non mi ricordavo poi forse non si studia neanche perché è la fine delle fine quindi dopo tutte le peripezie dante dopo l'inferno il purgatorio il paradiso vede dio sarà voluto forse incontra dio esatto l'altro non le insegnano più ci diceva eccetera incontro finalmente dio dio e questa cosa tutta piena di colori e in mezzo dante chiaramente massone esoterista in mezzo a tutta questa massa di colori c'è un buchino lui si avvicina perché capisce che quella è l'essenza di dio si avvicina e vede praticamente il proprio occhio riflesso è come se quel buchino fosse un piccolo specchio e la divina e non lo sapevano neanche e la divina commedia termine in questo modo direi che non ci sono commenti fatti nuova frequenza 134 miliardi bene nuova percentuale di consapevolezza 178 psp e santo 139 vite precedenti 1984 cervello 9.8 buon incremento si però non straordinario messaggio finale della ps della pie a samantha in relazione a tutto in relazione a questo un lieve aumento del cervello e alle sue eventuali potenziali capacità medianiche o attuali capacità medianiche allora la vedo mi fa vedere due cose che potrebbero aiutare samantha allora la prima è diciamo nessuno in casa nel suo ambiente domestico direi come se potesse allenarsi facendo delle cose di ordine ma ecco ok dedicarsi nello specifico tipo alla parte dei mobili allora vedo che c'è io vedo come se ci fosse lanta di un armadio molto lungo tipo un armadio che potrebbe avere delle arti scorrevoli ok e lei che con dei gesti tipo circolari lo rimodella ok ma rimodellandolo è come se mentre fa questo gesto in eterico si rimodellasse sia dentro quindi un ordine diverso e sia fuori prende dei colori diversi quindi probabilmente potrei dire che come se lei cambia l'energia di casa che forse fino adesso era un po bassa e tutta monotono ok un po alla volta mettere proprio un energia diversa nella casa ok quindi più luminosa più colorata più movimentata ok e invece all'esterno vedo che potrebbe utilizzare degli elementi del bosco per fare delle decorazioni e questo lo aiuterebbero a rimanere ad allenarsi ad essere centrata e ad alzare imparare ad alzare le vibrazioni ok proprio come sfogo di proprio meditativo no qualcosa di concreto e meditativo ecco essere stato bello se ce ne avessi parlato prima samantha comunque lei fa dei massaggi circolari e fa passare dolore le persone e le mani si muovono un po da sole più o meno è questo quello che intendi però lo deve fare nella casa quella cosa lì in casa però per la casa si con l'energia lì si si va benissimo nella casa questo è il messaggio della ps sì ok si pian piano aumenta proprio la sua capacità di sentire le vibrazioni sentirle iniziare magari anche a vederle soprattutto nella natura e nel bosco effetti di tutto quello che abbiamo visto sulle figlie allora le peto allora adesso è come se loro percepissero fossero un po preoccupate perché percepivano l'ansia della mamma ok quindi le vediamo un po agitate ok e poi a volte la grande già mentre prima raccontava è come se fosse fosse più sicura con la mamma che col papà e quindi con la mamma si sente più libera di sfogarsi e di dire cose no quindi magari questa parte che le percepisce contro di lei ma in realtà è solo che si sente più al sicuro con la mamma perché la mamma ma però nello stesso tempo sentono la sua ansia quindi sono erano un po elettriche finora adesso le vedo più rilassate anche nell'ambiente domestico la madre la madre nel suo mondo quindi non ha senza di essere in un altro ambiente il compagno è come se al compagno gli si illuminasse la strada da prendere per poter per poter essere libero di vivere con lei ok liberamente con la sua storia con lei con samantha e ci vorrà un attimo prima che riesce a mettere in atto tutto perché ha una certa sequenzialità questa azione no vedo che ha proprio dei passi obbligati ma la vede perfettamente la soluzione come se si illuminasse proprio la strada c'è tutto buio e quella strada lì è il nominato ex marito marito come se l'avevo già visto prima era in prima fila perché era curioso di capire che cosa voleva mostrare soprattutto per capire cosa voleva mostrare alle sue figlie ecco vabbè sorelle e cugini in generale si hanno ascoltato ma non li vedo così consapevole va bene lei la vediamo sapevole e adesso oltretutto è come se adesso gli si fosse si faceva delle domande di alcune cose che a cui non riusciva a dare una spiegazione un filo logico adesso è molto tutto tutto molto chiaro ok ai amore incondizionato